Allora noi a questo punto siamo pronti per ospitare anche l'espressione che si produce nel canto di Padru. C'è ovviamente un gruppo che un anno e mezzo fa ha trovato il punto d'incontro, vedrete anche molti giovanissimi, ma che ovviamente nel segno del canto tornano indietro nei secoli, perché questo è il canto nostro più antico, il canto a tenore e quindi un applauso al tenore Padresu. Eccoli qua. Un grosso saluto per loro che trovano al centro del palco il luogo per depositare poesia. Loro propongono Padresa a Saseria, Girada a Supassu e poi Supassu Antigu de Saserra. Un applauso per Su Tenore Padresu. 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 Un applauso per Su Tenore Padresu.